Cari amici ben ritrovati su Agronotizie, tendenza per i prossimi 15 giorni, quindi per la prima parte di giugno, per la prima metà di giugno, che sarà caratterizzata quasi, lo ripeto, quasi dappertutto da tempo tranquillo, soprattutto al centro, al sud, su zone costiere, ma nelle zone interne, sui rilievi, occhio alla solita instabilità e soprattutto all'instabilità che si potrà ancora accendere sui rilievi, in particolar modo sui rilievi alpini. Poi attenzione, ancora queste gocce fresche tenderanno ogni tanto a smorzare il caldo e a distabilizzare il tempo, soprattutto dal 6, 7 al 10, con dei rovesci di pioggia che saranno questa volta un po' più convinti e interesseranno non solo le aree attorno ai rilievi, e scivoleranno da nord verso sud, questi rovesci di pioggia tra il 6 e il 10 di giugno. Poi di nuovo l'anticiclone tornerà ad imporsi e le temperature aumenteranno e le andranno ad aumentare e i valori saranno al di sopra della norma. Per il momento io mi fermo qui, vi ricordo che dal pulsante sottostante, come sempre, potete visualizzare le previsioni di casa vostra. Arrivederci!